Leporano, Castello Muscettola, restate a Leporano, estate leporanese, un'altra serata all'insegna anche della cultura e dello spettacolo napolicanto, le stelle del caffè Chantal, musica, rappresentazione, sindaco un momento certamente leggero che però rafforza questo legame che c'è tra le città del sud, nella fattispecie tra Taranto, l'area Ionica e Napoli. Sicuramente è una serata all'insegna della musica e del teatro napoletano al quale noi siamo molto legati come meridionali, chiaramente fa parte della nostra cultura anche la cultura partenopea, noi abbiamo comunque una forte influenza e derivazione napoletana. Borbonica proprio. Non a caso questo castello è sempre il Castello Muscetto, dai principi proprio napoletani, quindi è importante questa presenza nel cartellone estate leporanese del caffè Chantal, chiaramente una compagnia che ho già avuto modo di vedere, che ho apprezzato e che è una professione molto preparata, tra le quali a 9 era il maestro Capurro che è il pronipote di Coria, che ha scritto, sono le mie, quindi stiamo parlando di una compagnia ad un certo livello. Un momento certamente di aggregazione, di sano divertimento, un divertimento sobrio. Un divertimento che attrae tantissimi turisti, noi lo facciamo proprio per alietare le serate e attrarre il nostro paese, che è sempre ricettivo al massimo sul piano turistico e culturale, a braccio aperto tutti i turisti e i villeggianti. Grazie a tutti.